Le sue doti sono la naturalezza e la spontaneità. Eleonora, dopo essere stata tra le inquiline della seconda edizione del reality più seguito dagli italiani, ha messo in campo tutte le sue capacità e qualità, tanto da diventare in poco tempo una delle signore della tv italiana. Conduttrice Rai tra le più apprezzate, la sua notorietà arriva nel 2014, quando la Rai le affida la conduzione di Uno Mattina. Dal 2013 conduce Storie vere, segmento di Uno Mattina da cui nasce lo stimolo per scrivere il libro Storie vere tra cronaca e romanzo. Molto sensibile al fenomeno della violenza sulle donne, ha messo la sua professione e sensibilità di giornalista al servizio delle donne che ne sono vittime. Nelle sue trasmissioni il tema della violenza alle donne viene dibattuto quotidianamente e invita le donne a fare rete nel condividere le loro esperienze, affinché diventino una vera e propria forza, in grado di poter capovolgere a loro favore anche le situazioni più complicate e difficili. Eleonora, una trasmissione in cui veramente tu racconti tantissime storie e tantissime storie purtroppo ancora parlano di donne, spesso anche di bambini vittime di quella violenza cieca, magari dell'ex compagno della mamma. Sì, intanto sono molto colpita perché qui nella sala ci sono anche tanti ragazzi giovani ed è proprio a loro forse che dovremmo parlare di più. È bello, prima ho parlato con Filomena che è una delle vostre ospiti questa sera. Filomena è una donna straordinaria che io ho conosciuto in trasmissione proprio a storie italiane. È una donna che è stata sfregiata dall'acido della pescheria del marito e il marito praticamente è stato condannato solamente per 16 mesi. Allora, quando dico i giovani, i ragazzi, forse davvero è loro che dobbiamo parlare perché è da loro che dobbiamo iniziare, ricominciare, capire dove in tutti questi anni qualcosa è andato storto nel meccanismo dell'educazione affettiva, sentimentale. Ogni giorno trattiamo storie di questo genere e ogni giorno noi giornalisti ci sentiamo impotenti davanti a queste storie perché è vero che facciamo molto sensibilizzazione, campagne. Io sono dai tempi di una mattina, quasi da vent'anni che faccio televisione e quasi da vent'anni che racconto queste storie. E dopo così tanto tempo mi chiedo perché tutti i giorni noi abbiamo sempre la cronaca sotto gli occhi. Questa mattina ho raccontato una storia che davvero mi ha lasciato senza parole perché siamo al nord, un uomo aveva il divieto di avvicinarsi alla villetta dove viveva la moglie con i figli perché è stato violento, un uomo condannato, un uomo che non poteva stare lì vicino a quella donna né alla sua famiglia eppure è andato lì e ha bruciato casa. In quella casa c'erano i due figli e uno di questi due figli era secondo piano e il bambino purtroppo non è stato salvato. Allora quando noi raccontiamo queste storie pensiamo che cosa abbiamo sbagliato tutti quanti noi, dove sbagliamo, perché continuano a succedere, perché ne parliamo tanto eppure continua a succedere questo fenomeno, perché? Allora mi chiedo anche, sì è vero molti di noi possono fare tanto le associazioni, i giornalisti, la comunicazione, la rete sociale, le leggi ma forse le leggi devono cambiare, le leggi dovrebbero essere diverse, forse quell'uomo doveva essere controllato, forse dovrebbe avere un braccialetto elettronico, magari se si fosse avvicinato troppo a quella villetta qualcuno se ne sarebbe accorto e allora anche le istituzioni devono intervenire, anche la politica deve intervenire e le leggi si ti dicono sempre ci sono, però poi non vengono applicate, se ci sono non vengono applicate e se vengono applicate vengono applicate male, allora probabilmente dovremmo crescere anche nel senso di responsabilità civile e civica anche di un organo come la magistratura, che davanti alla situazione di Filomena quando vede una donna sfregiata e forse dovrebbe dire che quell'uomo 16 mesi non se li meritava, se ne meritava l'ergastolo, se ne meritava molti di più di mesi, no? Allora c'è una responsabilità forte anche di chi sta davanti alle aule del tribunale e sta davanti anche a certe decisioni dove questi uomini devono pagare, devono pagare un po' di più magari prima di fare quello che hanno fatto a Filomena tante donne, magari ci pensano, ci pensano un po'. Io sono molto emozionata a parlare di questi temi perché tratto storie tutti i giorni, sono storie di donne alle quali sono vicina anche fuori dalle telecamere, l'unica cosa che posso fare è essere una loro amica, per cui svestirmi dai panni della giornalista, della televisiva, di tutto quello che è luce, della ribalta ed essere semplicemente la ragazza o la vicina della porta accanto o chi non dà loro aiuto o chi non dà loro ascolto. Anche perché molto spesso quando raccontiamo queste storie, raccontiamo storie e le nora di persone che vivono in una gabbia, quello che dicevo prima, che spesso magari non trovano la forza di denunciare prima, di uscire prima da quella situazione perché non hanno neppure le possibilità economiche di uscire da quella situazione, perché magari lavora soltanto il marito, perché non sanno più come sostenere i figli se se ne vanno da quelle case. Ed sono storie che purtroppo raccontiamo sempre. Sì, tu lo sai perché facendo ITG tutte le sere arrivano notizie di questo genere. L'indipendenza sociale, l'indipendenza economica è fondamentale per le donne, però anche quando le donne sono indipendenti, lavorano comunque, sull'uomo violento non guarda in faccia niente nessuno. Per cui a volte tante donne dentro le pareti domestiche prendono botte per tanti anni. spesso non difendono loro stesse per difendere i figli o per cercare e sperare di dare ai figli comunque un futuro di una famiglia e non capiscono che invece in quelle botte c'è l'odio, in quelle botte non c'è nemmeno la dimostrazione, la forza, l'educazione sentimentale proprio agli stessi figli, perché non c'è nessun figlio che ama vedere picchiare la propria madre. Allora dico a quelle donne comunque di ribellarsi, di denunciare, sperando che le leggi diventino più severe. Spesso non denunciano perché non si sentono tutelate, e questa è la verità, ma questo non deve essere un deterrente. Io credo che le denunce debbano assolutamente esserci, che le donne non debbano avere paura, e che dobbiamo stringerci sempre di più, unirci sempre di più, fare rete, dare importanza, aiutare le associazioni come questa sera, perché queste donne vanno aiutate sempre e insieme. Questo è importante, insieme. Grazie, grazie Eleonora. Tra l'altro le domande, quelle che ti giustamente facevi sulle istituzioni e sulla magistratura, tra poco le gireremo a chi di dovere, perché sarà tra i nostri premiati. Intanto chiamo sul palco, ci alziamo, per la consegna del premio uno dei membri della giuria, Regina Schrecker, e invece per la consegna del diploma, l'avvocato Andrea Catizzone, presidente di Family Smile. Grazie mille. Grazie. Insieme all'avvocato, davvero, le battaglie sono state tante, ci conosciamo dai tempi di una mattina, per cui sono passati tantissimi anni, e io devo dire, insomma, che abbiamo trattato tante volte questi temi, lei è un avvocato matrimonialista, quando ci si separa, gli uomini a volte non accettano, la separazione e il ruolo dell'avvocato è fondamentale, molto, molto importante. Grazie Andrea Catizzone. Grazie. 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 Grazie.